Ciao ragazzi e ciao ragazzi, nuovo video speciale perché vi devo dire un po' di cose importanti, un po' di novità molto molto importanti per me, prima di tutto ci tenevo a ringraziarvi tantissimo per tutti i commenti, tutti gli apprezzamenti dei video che ho fatto, quelli là sulle polemiche veramente mi avete dato tanta tanta carica, mi avete incoraggiato tantissimo è piaciuta sta cosa insomma che ho risposto e che vi ho spiegato le cose penso che questo sia il modo migliore per approcciarsi a voi, insomma anche a chi muove qualche critica o magari semplicemente non si capisce insomma il mio modo di fare, il mio modo di fare qui su youtube quindi ho pensato un po' di farvi questi video spesso, più spesso, in cui rispondo se avete magari non so delle critiche, delle cose, ogni volta mi viene detto qualcosa anche qualcosa che secondo me è sbagliato, non voglio fare più come prima che mi sto zitta, sì sono superiore, sì vado avanti però se vedo che c'è qualcosa che proprio non va, mi si deve infangare mi si deve dire cose su di me che non sono vere non starò più zitta, quindi farò questi video e dirò sempre la mia perché sono stufata, insomma la cosa è quella, mi sono stufata ovviamente non starò a rispondere a chi mi fa, mi ha fatto una sona, insomma le critiche queste qua stupidi no, questa quindi è la prima novità cioè io sono cambiata e adesso farò così anzi sto già pensando un video che vi devo fare in cui voglio spiegare tutto tutto il mio modo qua di agire su youtube come mi comporto tutto tutto nella sincera verità praticamente più assoluta ve lo voglio dire perché veramente sono stufa che mi vengono mostre sempre critiche, accuse quando veramente il mio comportamento è sempre limpido e onesto poi seconda novità importantissima, nuovo evento che ci sarà sono troppo troppo felice, il primo nuovo evento di una serie che veramente voi sapete che con gli eventi per me non è sempre facile perché io verrei dappertutto in tutta Italia però dato che siete abbastanza veramente tanti che venite agli eventi non mi posso improvvisare, quindi ho bisogno dei luoghi e voglio che sia fatto tutto tutto bene, preciso, con la sicurezza insomma che siamo tranquilli e poi magari con regalini eccetera quindi quando trovo chi mi supporta in questa cosa sono felicissima, infatti adesso l'incontro ci sarà 24 ottobre, aspettate che me lo sono segnato a Caserta, sono troppo troppo felice perché non sono mai stata a Caserta quindi Caserta e dintorni, venite, venite, venite tutti quanti non vedo l'ora di incontrarvi ma venite anche dalle città livitrofe perché vi dico che la bioporfumeria che l'ha organizzato si chiama La Regia del Bio che sono due ragazze troppo brave, troppo carine chi va nel negozio già le conoscerà questo negozio si trova a Caserta in via Raffaele Gasparri numero 74 La Regia del Bio è molto fornito sta già da un annetto, forse qualcosa in più aperto loro hanno fittato una sala per l'evento ragazze quindi ci sarà una sala bella grande avremo tanto spazio potremo parlare del bio dei cosmetici naturali potrete fare tutte le domande che volete poi ovviamente ovviamente ci saranno i soliti regalini tanti tanti regalini delle più famose marche vi dico alcune delle marche che loro trattano nel negozio Fito Cose, Tia Natura, Alchemilla Beofficina Toscana, Sante, Born to Bio Jonesac, Sobioetico, Evril Anthos, Nabla, Puro Bio insomma Benecos Color Caramel va veramente ce ne sono tante 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 quindi venite ci saranno tanti tanti regalini per voi e ci sarà uno sconto del 15% su tutti i prodotti alle 16.30 nella sala congressi dell'hotel dei Cavalieri a piazza Van Vitelli numero 12 praticamente vicinissimo al negozio e voi praticamente venite là e in questa sala vi sistemate tutte belle tranquille perché c'è spazio quindi venite tutti venite numerosi anche da Napoli da Salerno venite sulla mia pagina facebook creeremo l'evento appunto così magari voi potete mettere l'adesione così noi ci rendiamo conto di quante persone siete anche se vi dico già che la sala può ospitare veramente centinaia di persone quindi state tranquille mettete la vostra adesione all'evento e l'altro vedete anche spiegate le indicazioni per raggiungere appunto questa sala che è comunque adiacente al proprio vicino al negozio la reggia del bio quindi vi ripeto il 24 ottobre io non vedo l'ora di incontrarvi sono al settimo cielo perché è troppo troppo bello la cosa più bella di tutto è quando ci incontriamo parleremo di tutte e tutte le cose che vogliamo noi dei cosmetici che ho via potrete fare domande sui rimedi naturali sulle ricette su tutto tutto quello che volete voi poi vi darò questi regalini ci sono tanti tanti regalini potremmo abbracciarci baciarci fare tutto tutto quello che volete e sono troppo troppo felice quindi ci daranno tanti tanti regali per voi non vedo l'ora di incontrarvi ragazzi fatemi sapere già nei commenti se venite e poi venite su facebook a mettere la lesione all'evento ovviamente questo è soltanto il primo insomma il primo dell'anno perché considerando che l'anno comincia a settembre però ce ne saranno tanti altri e veramente spero tantissimo di venire anche al nord e forse stavolta ce la facciamo ce la facciamo veramente quindi non vedo l'ora io ovviamente aspetto sempre che trovo una buona bioprofumeria o insomma un qualsiasi organizzazione negozio, sito che organizza bene sistemato una sala quindi appena mi contattano e mi propongono io dico sempre sì perché sono felicissima di incontrarvi in qualsiasi città d'Italia veramente spero che pian pianino di poter venire ovunque quindi per adesso vi aspetto a caserta il 24 ottobre sono troppo troppo felice altra novità ragazze è quella che sul blog a parte che ho ancora aperto il giveaway che vi ho fatto quello di tutti i pacchi il pacco dei prodotti bio è aperto anche su facebook il giveaway anche su instagram ancora per pochi giorni e poi sul blog ho creato delle sezioni che il blog è strutturato appunto ci sono tutte le categorie in alto nella categoria video si possono vedere tutti i miei video sia quelli del primo canale che del secondo canale proprio direttamente dalla sua e sono aggiornati in tempo reale e poi andando più avanti ci sono le categorie Carlita chiacchieriamo chiedi a Carlita queste categorie sono categorie che ho creato per voi appunto dove vi potete fare tutte le domande che volete io risponderò risponderò in tempo reale perché ogni sera io vado e rispondo ai commenti sul blog quindi nella categoria chiedi a Carlita potete chiedere là tutte domande tecniche su prodotti ricette anche richieste di video io vengo leggo prendo spunto e rispondo e la categoria chiacchieriamo invece per chiacchierare fra di voi magari se volete confrontare sul bio ma anche in generale su qualche nuova scoperta o semplicemente volete chiacchierare fra di voi insomma è sempre piacevole avere un punto di incontro e poi ci sono altre due novità due novità importanti una è che sto cercando casa quindi finalmente mi trasferisco yeee vado a vivere da sola no veramente sono felicissima non vedo l'ora che accadrà che quindi potrò sistemare tutte le mie cose apro la mia stanza per fare i video tutto bello bello e quindi casomai poi farò vedere porterò con me alla scoperta della mia casetta e un'altra novità che è quella che veramente mi prende di più il cuore veramente mi emoziona tantissimo è quella del mio progetto grande grande che voi tutte sapete ma che non diciamo per scalavanzia che sta succedendo quindi che proprio nei prossimi mesi io vi comunicherò questa cosa e sono troppo felice e là veramente mi vedrete volare ta 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 volare ta 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 volerò tipo una farfalla invece io e te i 3 metri sopra il cielo calida dolce 10.000 metri sopra il cielo da sola a volare ma ragazze non vedo l'ora spero che mi supporterete anche in questa nuova avventura che ci sarà proprio a brevissimo imminente nei prossimi mesi e ragazze sono troppo troppo entusiasta di incontrarvi all'evento di tutte queste novità che stanno accadendo e del vostro supporto che sempre mi date sempre fortissimo vi aspetto a casetta il 24 ottobre vi aspetto se nei commenti mi volete dire se verrete all'evento oppure se magari mi volete proporre qualche nuovo video che vorreste vedere io vi ho detto che vi farò quello là in cui vi spiegherò un pochino il mio modo di fare il mio comportamento risponderò un pochino di critic mi toglierò un po' di sassolini dalla scappa vi mando un bacio grande ragazze ciao 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 ciao